Il rischio di una nuova fuga verso il sud è un fatto reale che non può non destare preoccupazione. Per questo ritenuto di chiedere al nostro comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria che vorremmo condividere anche con il Ministero della Salute. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. C'è, prosegue, un sostanziale miglioramento in Sicilia e si inizia finalmente a vedere una progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere. Non possiamo quindi rischiare di far correre di nuovo il virus per comportamenti individuali che appaiono improntate a superficialità. Lo dobbiamo alle tante vittime che abbiamo avuto e alla straordinaria passione con cui migliaia di operatori hanno adempiuto con professionalità la loro missione di vita. Le ultime notizie sulla situazione Covid in provincia di Ragusa riguardi i positivi, i decessi e i ricoverati sono davvero incoraggianti. Nella giornata tra giovedì e venerdì non si sono registrati i decessi di persone positive al Covid. Rimane quindi fermo a 122 il numero dei ragusanni positivi deceduti dall'inizio della pandemia. Non si può sicuramente pensare che è tutto finito o meglio che sta per finire, ma di certo le ultime ore danno un conforto e fanno sperare bene. Intanto sono ripresi da questa mattina nei tre distretti di Ragusa, Modiche e Vittoria, gli screening di massa finalizzata di individuare positivi asintomatici. Saranno effettuati fino a lunedì in quasi tutti i comuni blei grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali e l'ASP di Ragusa. Molti sindaci hanno ricordato l'appuntamento ai cittadini per sottoporsi al tampone, per dare la possibilità di individuare positivi asintomatici e avviare la procedura per il tracciamento che sono fondamentali nella lotta alla diffusione del virus. Grazie a tutti.